Pronti per il gioco numero 3? Questa volta ci serve soltanto il tamburo. Dovete stare molto attenti perché se io batterò una volta sul tamburo dovete fare un salto. Se invece batto due volte dovete battere le mani. Facciamo una prova? Se batto una volta dovete fare un salto. Se batto due volte dovete battere le mani. Perfetto! Cominciamo? 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 l'avete fatta questo gioco può essere difficile ma vi potete allenare vedrete che diventerete bravissimi